Ciao dall'Italia, ciao da casa UIV, la casa di chi ama la lingua italiana, la casa di chi vuole vivere in italiano, la casa di chi vuole leggere il commento di Gino Cacchiarelli. Di madrelingua italiana? Non lo so, non so, magari non è italiano, magari Gino Cacchiarelli è australiano, così come magari un ipotetico Mohammed El Koddari è italiano, italianissimo, nato in Italia, di madrelingua italiana. Gino, Gino ce l'ha con gli inglesi, ma Gino, ma perché, che cosa ti hanno fatto gli inglesi? Non le persone di madrelingua inglese, solo gli inglesi, non tutti quelli del Regno Unito, ma vivi in Inghilterra, vivi nel Regno Unito, mi manca qualche pezzo della storia, Gino. Gino mi scrive, bravo a chi? Bravo, io sono bravo, secondo Gino, ha scritto un commento al video breve sul verbo potere, indicativo presente, la posizione del pronome, un video grammaticale. gradirei, ottimo, gradirei, condizionale del verbo gradire, ha gradito il video, Gino, e adesso lui gradirebbe, la terza persona del condizionale presente è sempre diversa dalla prima, io gradirei, tu gradiresti, lui lei gradirebbe, noi gradiremmo, doppia M, voi gradireste, loro gradirebbero. gradirei, dice Gino, che faccia, che io faccia, che tu faccia, che lui lei faccia, congiuntivo presente, che noi facciamo, uguale all'indicativo, che voi facciate, che loro facciano, che faccia delle lezioni agli inglesi. Aspetta, Gino, ti suggerisco una concordanza di questo tipo, presente indicativo, gradisco che tu faccia, gradirei che tu facessi, congiuntivo imperfetto, non ti piace di più, a me piace di più, vorrei che tu facessi, gradirei che tu facessi, indicativo presente, congiuntivo presente nella subordinata, condizionale presente nella principale, e congiuntivo imperfetto nella subordinata, a me piace di più così. Gradirei che tu facessi delle lezioni agli inglesi, che suppongono di avere la lingua superiore. Ma chi te l'ha detto? Lo dicono loro? Qua ci sono tantissime amiche, tantissimi amici inglesi che amano l'italiano. L'italiano, lo sappiamo, è amato dappertutto nel mondo, tranne che, tranne che in Inghilterra? No, tranne che in Italia. L'italiano è amato dappertutto, per i più svariati motivi, ma in realtà, dice Gino, loro scrivono una cosa e pronunciano in modo diverso, non leggono la E. Ma Gino, ma anche noi non leggiamo la H, non diciamo io ho, tu hai, lui ha, scriviamo la H e non la pronunciamo, a volte non pronunciamo la I, ciao, non dici ciao, ciao, cielo, non pronunci la I, però la scrivi, Gino, e non leggono le doppie. Eh vabbè, ma è il loro modo di pronunciare le parole, anche noi abbiamo delle cose un po' strane, la Gli, a volte la Gli produce il suono gli, fogli, e a volte gli, glicine, negligente. Gino, ma perché? E poi, aspetta, la lingua perfetta è l'italiano. Buongiorno. Ma scusa, ma tu critichi gli inglesi che suppongono di avere la lingua superiore e poi tu dici la lingua perfetta è l'italiano. Gino, ma la perfezione non è degli uomini e non è soprattutto delle lingue, la lingua perfetta è l'italiano, ma l'italiano nel corso dei secoli è cambiato. Allora dove sta la perfezione? In quale fase dell'italiano possiamo ritrovare la perfezione? Però in ogni caso la lingua italiana non può essere sempre stata perfetta, visto che è cambiata. Oppure la perfezione ha stadi diversi, a livelli diversi? No, la perfezione è la perfezione, immutabile e inarrivabile e non umana, non appartiene agli uomini. La lingua italiana è meravigliosamente imperfetta e nella sua imperfezione è da amare. Gino, mi manca un pezzo della storia. Ah no, ti devo dire una cosa, a proposito di inglesi e quindi di lingua inglese. Caro Gino, chi non ama l'italiano è quella persona di madrelingua italiana che senza motivo infarcisce l'italiano, infarcisce così come si infarcisce il bignè o la brioche, ho usato due francesismi, il cornetto, il pasticcino di anglicismi? Sì, perché io posso dire bignè, posso dire brioche, ma quando in ogni frase inserisco un forestierismo e questo forestierismo, cioè questa parola che proviene dall'estero, da altre lingue, è sempre un anglicismo, proviene sempre dall'inglese e quando in ogni frase io sbatto dentro senza motivo una parola inglese che può essere mission e può essere sentiment e può essere location e può essere fake news. Basta con queste fake news e con questa fake news. Notizie false, bugie, balle, menzogne, queste sono le fake news, è una battaglia persa ormai anche il presidente della repubblica italiana con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, noi vogliamo bene al presidente soprattutto quando la cravatta storta. Presidente, notizie false, non fake news, per favore, per favore. Ecco, caro Gino, non c'è nessun inglese che ci obbliga a ibridare la lingua italiana e qua uso un verbo non a caso perché voglio citare e salutare Antonio Zoppetti, per ibridare la lingua italiana, non arricchire, ibridare e io direi imbastardire la lingua italiana in questo modo. Attenzione Gino, lo ripeto sempre, io amo l'inglese tanto quanto l'italiano. L'italiano si ama l'inglese, si studia? Per me no, io con l'inglese ho fatto tante cose, io quando penso all'inglese, quando penso in inglese, mi batte forte il cuore perché ho vissuto tantissime esperienze meravigliose della mia vita grazie alla lingua inglese, io amo l'inglese, ma amo l'inglese, uso parole inglesi quando parlo in inglese, non mi servono le parole inglesi quando devo parlare in italiano, uso computer, va bene, e uso anche mouse, anche se in altre nazioni si traduce mouse, va bene, e dico plug in, non ho l'esigenza di tradurre tutto, anche se sarebbe divertente, come si faceva fino a un po' di tempo fa, trovare delle alternative in italiano e vedere un po' come suonavano in italiano e come suonano in italiano. Sarebbe divertente, ma non sono un estremista purista, ma alzo il ditino quando leggo e sento ovunque in ogni frase una parola inglese, se non due, se non tre. Allora io saluto Antonio Zoppetti, massimo esponente di questo tema degli anglicismi in Italia, che parla chiaramente di una ibridazione in corso della lingua italiana, e dicevo non c'è nessun inglese, nessuno statunitense, nessun australiano che ci impone di usare questi anglicismi al posto delle parole italiane, non c'è nessuno dall'estero che ci impone, che ci obbliga, ci obbliga a rimuovere, che ci impone di rimuovere, che ci obbliga a rimuovere una parola italiana che esiste, che è sana, che è bella, e mettere al posto della parola italiana un assurdo anglicismo, fino ad arrivare ad inventare parole finte inglesi e di usarle in italiano, al posto delle parole italiane. Ecco, siamo noi, siamo noi italiani che facciamo queste porcherie con la lingua italiana. Quindi, caro Gino, tu, non lo so perché, spiegamelo per favore, tu pensi che gli inglesi siano convinti di avere la lingua superiore? Non lo so, dimmi tu, io ti dico che gli inglesi che sono qua nella casa di UIV amano l'italiano e sono proprio loro, sono le persone di madrelingua inglese che non riescono a capire che cosa sta succedendo, non all'italiano, agli italiani, sono loro che soffrono quando sentono gli anglicismi nella lingua italiana, quando leggono parole inglesi o finte inglesi nella lingua italiana. Quindi, io dico sempre che la salvezza della lingua italiana è nelle mani non degli stranieri, perché odio questa parola, è nelle mani degli studenti della lingua italiana, che non sono di madrelingua italiana, perché noi la stiamo massacrando, la stiamo violentando, non con gli errorini di grammatica e con i refusi, no, no, noi la stiamo massacrando perché la stiamo rinnegando e solo per darci un tono vomitiamo qualche parola inglese senza sapere la lingua inglese nell'italiano. Quindi, Gino, io ti ringrazio per il commento davvero di cuore, ma non mi ritrovo nel tuo commento e certo, poi l'italiano è la mia madrelingua, forse anche la tua madrelingua. E la madrelingua si ama. Si può amare una donna più della propria madre? No. Allora certamente la nostra madrelingua si ama come nessun'altra lingua, va bene, da un punto di vista affettivo, ma non capisco neanche come si possa dire che l'italiano è la lingua più bella del mondo. Certo, soggettivamente tutti possono esprimere questa idea. Molte delle amiche, molti degli amici che sono qui nella casa di Uivi amano la lingua italiana come nessun'altra, da un punto di vista soggettivo, da una prospettiva soggettiva possiamo dire ogni cosa, ma io non me la sento di dire che l'italiano è la lingua più bella del mondo. È la lingua che amiamo, che ci fa battere forte il cuore e quando amiamo una persona o una cosa non dobbiamo per forza confrontare quella persona e quella cosa che amiamo con altre persone e altre cose. L'amore è anche irrazionale, cioè è una grazia di Dio e dobbiamo vivere questo amore intensamente, non come una gara. Gino, ho parlato troppo, ti chiedo scusa, chiedo scusa a tutte le amiche e a tutti gli amici che hanno avuto la pazienza di arrivare fino a qua. Io ho detto la mia, io ho detto la mia, ho espresso la mia opinione. Bello questo, ho detto la mia. Basta. Adesso tu di, con l'apostrofo, non con l'accento, non senza niente, di, imperativo, di la tua, dove? Nello spazio dei commenti e dove se no. Un caro saluto, grazie di cuore. Ciao.